La vittima dell'incidente avvenuto all'alba a Idice di San Lazzaro, Pier Girolamo Pardo, stava andando a lavorare in motorino. Lo scontro frontale con una macchina lo ha ucciso sul colpo. Indaga la procura sul decesso di un settantenne morto all'ospedale di Bentivoglio dove era arrivato con alcuni dolori all'addome e la sesta morte sospetta in pochi mesi nella stessa struttura sanitaria. Soldi che passavano per sponsorizzazioni e consulenze ma che sarebbero serviti per corrompere i vertici ATC e quanto emerge dagli avvisi di fine indagine dell'inchiesta sul civis che la procura di Bologna ha mandato a 11 persone tra cui l'ex sindaco Giorgio Guazzalocca. Cucina in pessime condizioni igieniche e la sala da ballo completamente abusiva e quanto hanno trovato i carabinieri in un club privato allestito in un casolare nelle campagne di Granarolo per il gestore Maxi Multa e doppia denuncia. Accordo raggiunto per salvare la Verlicchi di Zola Predosa. L'intesa firmata in provincia prevede il mantenimento dell'attività produttiva e la salvaguardia dei 90 posti di lavoro. Futuro incerto però per altri 70 dipendenti rimasti esclusi. Buonasera e benvenuti a ETG Bologna. In primo piano oggi la cronaca purtroppo con la notizia di un gravissimo incidente stradale, un incidente stradale mortale avvenuto questa mattina presto a Idice di San Lazzaro vicino a Bologna. Lo scontro frontale è molto violento. Fra un motorino ed una macchina è costato la vita ad un ragazzo di appena 18 anni. Vediamo il servizio, le immagini di Federico Balletti. Quel che resta del motorino e il parabrezza della macchina completamente sfondato dicono già tutto della violenza dello scontro che questa mattina è costato la vita a un ragazzo di 18 anni. L'incidente è venuto poco prima delle 7 a Idice di San Lazzaro, alle porte di Bologna, un frontale che non ha lasciato scampo al giovane motociclista. Pier Girola Mopardo abitava a Ozzano e aveva compiuto 18 anni da appena tre settimane. A quanto sembra aveva da poco trovato un impiego come artigiano e questa mattina presto stava andando al lavoro verso Bologna, in sela al proprio motorino. Lo scontro frontale con un Alfa Romeo condotto da un 26enne di Monte Renzio è avvenuto in una semicurva ed è stato violentissimo. La macchina ha trascinato per molti metri il ciclomotore e Pier Girolamo sbalzato sul parabrezza è morto sul colpo. Il leso, nonostante i danni evidenti, il conducente della macchina. Dinamica precisa e cause dell'incidente sono all'esame della Polizia Municipale di San Lazzaro che ora dovrà cercare di capire quale dei due mezzi abbia invaso la corsia opposta. Per consentire i rilievi la via Idice è rimasta bloccata fino a metà mattina. Ancora cronaca, ennesimo caso di morte sospetta all'ospedale di Bentivoglio. Questa volta la vittima è un anziano settantenne entrato al pronto soccorso per dei forti dolori addominali e deceduto poche ore dopo in circostanze non del tutto chiare. Ci informa Simona Iannessa. Sembra avere le dimensioni di un uragano, quello che in questi ultimi mesi sta letteralmente travolgendo l'ospedale di Bentivoglio. Cinque morti sospette, soprattutto nel reparto di ginecologia ed ostetricia, a cui si aggiunge l'ultimo caso, la morte di un settantenne, Franco Mengoli, deceduto la mattina del 12 dicembre in circostanze poco chiare. L'anziano, residente a Minervio e malato di morbo di Parkinson, si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale nel pomeriggio dell'11 dicembre lamentando forti dolori addominali. Lo staff medico in tarda serata ha così deciso di applicare una cannula ed un sondino per agevolare lo svuotamento intestinale dal momento che l'uomo da alcuni giorni era affetto da una stipsi persistente. Una procedura normale in gergo medico di routine, ma il quadro clinico dell'anziano è peggiorato in poche ore e alle 3.15 dopo aver accusato forti dolori al petto, Mengoli è morto per un arresto cardiaco. Inutili si sono rivelati tutti i tentativi praticati dai sanitari per rianimarlo. Il caso ora è passato nelle mani della procura che ha ricevuto la segnalazione da parte dell'anatomia patologica dell'ospedale maggiore che durante una prima autopsia ha scoperto una lesione all'intestino. Spetterà la magistratura ricostruire l'accaduto, ovvero se la perforazione sia stata prodotta a seguito dell'inserimento del sondino da parte dello staff medico o se invece si sia trattato di una lacerazione già esistente. La procura comunque ha già provveduto al sequestro della cartella clinica. È la sesta morte sospetta che investe il nosocomio di Ventivoglio e alle inchieste della magistratura. Da ottobre scorso si sono affiancate anche due indagini amministrative, una dell'Ausle e l'altra della Commissione Malasanità del Ministero. Veniamo adesso al caso Civis. Soldi che passavano per sponsorizzazioni e consulenze ma che sarebbero serviti per corrompere i vertici dell'ATC. E quanto emerge dagli avvisi di fine indagine dell'inchiesta sul Civis, il discusso tram su gomma che doveva entrare in funzione a Bologna ma che è stato poi accantonato. Gli avvisi sono stati mandati dalla procura di Bologna a 11 persone tra cui l'ex sindaco Giorgio Guazzalocca per l'accusa, Iris Bus e il Consorzio Cooperative Costruzioni avrebbero corrotto il presidente e due consiglieri di amministrazione ATC dell'epoca per essere favoriti nell'appalto Civis. Al sindaco Guazzalocca, sempre per l'accusa, sarebbe invece stata data la nomina a presidente del CDA di un'importante società. Di questa vicenda giudiziaria che sta facendo davvero molto discutere anche in ambienti politici. Abbiamo parlato questa mattina in rassegna stampa con i consiglieri regionali dell'Udc e del PD, Silvia Noè e Maurizio Cevenini. Sentiamoli allora intervistati da Giuseppe Pilloni. Sono arrivati gli avvisi di fine indagine per il tram su gomma. Guazzalocca va verso il processo insieme al Consorzio Cooperative Costruzioni e Iris Bus Guazzalocca che dice o agito nell'interesse dei cittadini. Ecco un suo commento su questa vicenda. Ma io conosco Giorgio Guazzalocca e comunque per quello che lo conosco mi sembra veramente impossibile pensare che il suo agire sia tale da essere oggi, sia stato all'epoca pregiudizievole rispetto a quelli che erano gli interessi del bene comune. Sono convinta che la giustizia potrà appunto rendere, fare chiarezza e condivido Giorgio quando dice attendo fiducioso che la giustizia lo faccia. E quindi giustamente, correttamente si rimette a questo, ma così come vedo che tante persone ad oggi sono già state escluse da ulteriori indagini, certo ci sarà un responsabile, sarà interessante che la giustizia poi piano piano verifichi laddove non ci sono stati degli accertamenti adeguati che effettivamente le persone coinvolte emergano. Ma in merito a Giorgio Guazzalocca mi risulta troppo difficile pensarlo, anzi impossibile. Intanto una separazione netta tra la vicenda del civis e la vicenda dei singoli, nel senso che la magistratura farà il suo corso, farà le sue verifiche, le completerà le sue indagini e valuterà se ci sono delle responsabilità, che naturalmente ci si augura sempre sui singoli che non ci siano. Detto questo, il civis è un'amare esperienza, un'amarissima esperienza per i bolognesi, lo abbiamo visto. Certamente è una brutta esperienza per Bologna, è un progetto nato e cresciuto male. Ecco, questo è quello che mi sento di dire. Poi sulla vicenda giudiziaria come è giusto che sia, la magistratura deve fare il suo corso e non si aprono dibattiti su un'indagine giudiziaria, anche perché lo fai una volta, non lo fai un'altra, non ha anche un senso. Ma sul fronte delle infrastrutture giungono notizie anche di altro tenore, oggi da Roma, dove oggi si sono recati il sindaco di Bologna, Virginio Merola, il vicepresidente della provincia Giacomo Venturi e l'assessore regionale ai trasporti Alfredo Peri. Il Ministero ha confermato i finanziamenti per il metro già approvati dal Cipe, fin qui niente di nuovo, ma ha anche annunciato la rimodulazione del progetto entro la fine dell'anno affinché tali risorse, pari a 237 milioni di euro, siano destinate al sistema ferroviario metropolitano e alla rete dei filobus, proprio come era appunto nell'intendimento delle amministrazioni locali. Che abbiamo argomento, siglato in provincia l'accordo per il mantenimento dell'attività produttiva e la salvaguardia dei posti di lavoro alla Verlicchi di Zola Predosa, oltre all'accordo che costituisce la premessa fondamentale per la partecipazione all'asta fallimentare della neonata Verlicchi Telai. È stata firmata anche un'intesa quadro in cui, in caso di aggiudicazione, l'azienda si impegna al mantenimento della produttività e alla salvaguardia dell'occupazione, prevedendo nei primi tre anni di attività l'assorbimento di 90 lavoratori. Dal canto loro, le istituzioni si sono impegnate a mettere in campo i possibili strumenti volti alla ricollocazione dei 70 lavoratori non previsti nel piano industriale. Speriamo si possano creare presto le condizioni per dare una risposta occupazionale nella nuova azienda o nel territorio a tutti i lavoratori della ex Verlicchia, ha commentato Graziano Prantoni, assessore provinciale alle attività produttive, che ha condotto le trattative sindacali. Soddisfazione anche per la decisione presa nell'intesa di mantenere la storica sede a Zola Predosa. Voltiamo decisamente pagina. Il neo sottosegretario all'istruzione, Elena Ugolini, bolognese, è intervenuta oggi al convegno organizzato da Alma Laurea e Alma Diploma sui diplomati bolognesi. Il problema principale è quello della proposta che le scuole fanno ai giovani, ha detto il sottosegretario di fronte ai dati sui diplomati. Vediamo. Secondo un'indagine realizzata da Alma Laurea e Alma Diploma, il 46% dei diplomati bolognesi si è pentito dell'indirizzo scelto per i propri studi. Ne ha parlato anche il neo sottosegretario all'istruzione, la bolognese Elena Ugolini, ospite questa mattina in provincia. Io penso che più che il problema dell'orientamento sia il problema del tipo di proposta che le scuole fanno e dell'esperienza che i ragazzi fanno sui banchi di scuola. Perché è importante aiutare i ragazzi a scegliere bene la scuola superiore, però io penso che fondamentalmente in questo giudizio ci sia il deposito dell'esperienza di 5 anni, che a volte non è all'altezza delle aspettative e dei desideri dei ragazzi e soprattutto all'altezza della preparazione che viene richiesta quando si inseriscono nel mondo del lavoro oppure iniziano a frequentare l'università. Il governo Monti come si sta muovendo nel campo dell'istruzione? Quali saranno i vostri primi passi? Non posso ancora dire nulla perché il Ministro Profumo ha fatto degli interventi ma non ha ancora dato le linee programmatiche. Sicuramente vedo che c'è da parte di tutti l'intenzione di lavorare per lo sviluppo del Paese e sicuramente l'educazione e la scuola sono un punto fondamentale perché il futuro dipende dai ragazzi che formiamo in questo momento. Domani Fabrizio Barca, il Ministro per la coesione, presenterà un piano d'azione sulle regioni del sud e sicuramente da lì potrebbe riprendersi il nostro Paese partendo dai ragazzi. Come dicevamo appunto della ricerca portata avanti oltre che da Alma Laurea, Alma Diploma anche dall'assessorato alla scuola della provincia di Bologna retto da Giuseppe De Biasi che ha coinvolto circa 5.000 studenti. Sentiamo tutti allora i risultati dalla voce del direttore di Alma Laurea Andrea Cammelli. Professore Andrea Cammelli qual è l'identikit del diplomato che esce dalla vostra indagine dall'indagine di Alma Diploma? Beh complessivamente dico riflette il quadro che esce a livello di connazionale quindi un diplomato naturalmente che a secondo della famiglia di origine si iscrive ai licei oppure agli istituti tecnici oppure ai professionali c'è una stretta relazione tra famiglia di origine e sbocchi negli studi successivi c'è complessivamente una situazione di apprezzamento del lavoro svolto dalle scuole e dagli insegnanti molto importante c'è contemporaneamente un dato naturalmente che ci interroga, interroga noi, interroga i docenti perché al termine di questi studi quasi il 45% dei giovani seppur in modo diverso a secondo dei percorsi di studio ci dicono che non rifarebbero il percorso appena compiuto e questo evidentemente ci riporta quando la scelta è stata compiuta, i ragazzi, i bambini e i bambini avevano 13-14 anni, la scelta forse è stata fatta dalle famiglie, dagli insegnanti di scuola media, nel frattempo i ragazzi sono diventati uomini e donne e hanno cambiato in parte, è vero che il quadro migliora l'anno successivo quando questo 46% si abbassa al 40% ma ancora una volta questo è un dato forse più rilevante che ci dice che l'attività di orientamento già a partire dalla scuola secondaria e la scuola di primo grado naturalmente è una funzione di cui importante. Bagni e cucina erano in pessime condizioni igieniche, la sala da ballo completamente abusiva è quanto hanno trovato i carabinieri nel circolo privato club Trapanino di Granarolo, ispezionato la scorsa notte dai militari del NAS insieme alla polizia municipale, nel casolare di campagna era stata allestita senza autorizzazione una sala destinata a discoteca mentre altre stanze erano adibite alla consumazione di cibo e bevande, nei bagni e nella cucina i militari hanno trovato condizioni igieniche molto precarie, i locali erano maleodoranti, gli alimenti come si vede in questo filmato erano conservati insieme a scatolette per animali, oltre a tutto questo la cassiera a una ucraina di 26 anni era irregolare, per il presidente del circolo un bolognese di 65 anni sono scattate sanzioni per oltre 3.000 euro e due denunce per apertura abusiva di luogo di spettacolo e per impiego di mano d'opera clandestina, al momento del blizzo dei carabinieri nel club c'erano circa 200 persone, per lo più di mezza età. Parliamo adesso di sanità, buone notizie per la cardiochirurgia all'ospedale Sant'Orso Lamalpighi, il primo intervento in Italia con la pistola salvacuore, una tecnica mini invasiva alternativa alla sostituzione valvolare a ortica, la paziente di 86 anni ha subito un intervento durato circa la metà del tempo rispetto ad una procedura standard, ora la donna sta bene ed è a casa, sentiamo Alessia Salvatori. appunto il resoconto di Alessia Salvatori su questa nuova tecnica per quanto riguarda la cardiochirurgia. E' stata utilizzata per la prima volta in Italia a Bologna la pistola salvacuore, un dispositivo inventato negli Stati Uniti che consente di inserire rapidamente un condotto dal ventricolo sinistro alla orta discendente, bypassando la valvola aortica malata. L'equipe del professore Roberto Di Bartolomeo del Policlinico Sant'Orso Lamalpighi, coadiuvata dall'equipe anestesiologica diretta dal dottor Guido Frascaroli, ha operato una paziente di 86 anni affetta da stenose aortica critica. Senza l'innovativa terapia sarebbe stato difficile ricorrere ad una procedura classica con un intervento di sostituzione valvolare di circa 3-4 ore. Attraverso l'uso di questo applicatore speciale e di un condotto provvisto di una valvola biologica, l'operazione è durata meno di due ore. La paziente è la sedicesima al mondo a sottoporsi a questa tecnica sta bene ed è a casa. L'innovazione apre così nuove prospettive ai pazienti che non possono sottoporsi a lunghe anestesie e consente un'economia di costi per la struttura di circa il 30%. Il bypass della valvola aortica è una tecnica mini-invasiva alternativa alla sostituzione valvolare aortica che si conosce e pratica da oltre 30 anni con ottimi risultati clinici. Ma a causa della mancanza di una strumentazione apposita per eseguire l'intervento la procedura ad oggi non è molto diffusa. Si stima che possa realmente rappresentare un'opzione concreta per oltre 20.000 pazienti italiani che non sono ad oggi trattabili per rischi collaterali all'intervento tradizionale. Persone anziane ancora nel mirino a Bologna. Ieri sera una pensionata di 83 anni è stata aggredita e rapinata mentre rientrava a casa insieme al marito. È successo poco prima dell'evento in via della battaglia in zona San Ruffillo. I due coniugi erano scesi dal bus diretti verso la loro abitazione quando uno sconosciuto ha cercato di strappare la borsa alla donna. Lei ha provato a trattenerla ma è stata buttata a terra dallo scippatore che alla fine è riuscito a portargli la via. Il marito ha tentato di inseguirlo senza riuscirci. La pensionata che nello strappo ha riportato qualche abrasione al polso ha denunciato poi il fatto alla polizia. Bologna e provincia sono maglia nera in Emilia Romagna nella raccolta differenziata dei rifiuti. I dati sono stati resi noti dall'assessore regionale all'ambiente che ha rivolto alla nostra città una vera e propria tra virgolette ramanzina. Vediamo il servizio di Gabriele Sciarra. Dopo un periodo di calo è tornata a crescere la produzione di rifiuti in Emilia Romagna ma per la prima volta la raccolta differenziata ha superato il tetto del 50%. Un dato positivo cui hanno dato un contributo quasi tutte le province della regione ad esclusione della nostra città dove il differenziato si è fermato al 40%. Il punto è stato fatto in via Aldomoro dall'assessore all'ambiente Sabrina Freda che lancia un vero e proprio appello ai bolognesi. Bologna purtroppo è indietro, è il fanalino di coda e non è il primo anno. Io mi sento di chiedere un maggior impegno sia per quello che riguarda il capoluogo sia per quello che riguarda tutta la provincia di Bologna perché si deve allineare almeno al trend di crescita percentuale delle altre province, degli altri capoluoghi della regione. quindi mi sento proprio di chiedere un maggior impegno, uno sforzo in più perché poi visto che comunque Bologna è una grande città, densamente popolata, sostanzialmente i dati di Bologna incidono poi anche sulla media regionale in modo forte. Ci fremmiamo adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco. Di nuovo in studio con ETG Bologna. Prima di proseguire con il nostro telegiornale Rivediamo il sommario. Aveva compiuto 18 anni da poche settimane. La vittima dell'incidente è venuto all'alba idice di San Lazzaro. Pier Girolamo Pardo stava andando a lavorare in motorino lo scontro frontale. Con una macchina lo ha ucciso sul colpo. Indaga la procura sul decesso di un settantenne morto all'ospedale di Bentivoglio dove era arrivato con alcuni dolori all'addome. È la sesta morte sospetta in pochi mesi nella stessa struttura sanitaria. Soldi che passavano per sponsorizzazioni e consulenze ma che sarebbero serviti per corrompere i vertici ATC e quanto emerge dagli avvisi di fine indagine dell'inchiesta sul CIVIS che la procura di Bologna ha mandato a 11 persone tra cui l'ex sindaco Giorgio Guazzalocca. Cucine in pessime condizioni igieniche e la sala da ballo completamente abusiva e quanto hanno trovato i carabinieri in un club privato allestito in un casolare nelle campagne di Granarolo per il gestore Maxi Truffa e doppia denuncia. Accordo raggiunto per salvare la Verlichi di Zola Predosa intesa firmata in provincia prevede il mantenimento dell'attività produttiva e la salvaguardia di 90 posti di lavoro futuro incerto però per altri 70 dipendenti rimasti esclusi. Autobus fermi domani per uno sciopero che si svolgerà a Bologna dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Infatti per domani giovedì 15 dicembre le organizzazioni sindacali territoriali Filt CGL, Filt Cisle, Wiltrasporti, Faisa Cisal e UGL Trasporti aderiranno allo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale proclamato dalle rispettive segreterie nazionali gli orari appunto dello sciopero li avete visti adesso anche in sovraimpressione. Parliamo adesso di un progetto per recuperare i vecchi computer da utilizzare poi per corsi di formazione è Anch'io PC l'idea della società FormArt dalle finalità ecologiche e formative. Vediamo. Riassemblare un computer utilizzando il materiale di PC vecchi e malfunzionanti e poi usare i nuovi dispositivi per corsi di formazione rivolti a chi ancora in Emilia-Romagna ha poca dimestichezza con le nuove tecnologie. E' questo in sintesi il progetto innovativo il primo di questo tipo in Italia messo in campo da FormArt una società di formazione che opera dal 1995 in collaborazione con Confartigianato Impresa Verde Emilia-Romagna e Hauser. Il progetto si chiama Anch'io PC e si articola appunto in tre fasi. La raccolta, cioè il ritiro dei vecchi computer in disuso rotti o malfunzionanti queste apparecchiature saranno poi recuperate nella fase della rigenerazione e infine una volta concluso il processo i computer saranno consegnati a tutti coloro che parteciperanno alla fase degli incontri realizzati in 90 comuni della regione Emilia-Romagna. Si prevede di mettere a disposizione circa 9.000 PC si dovrebbe partire con il recupero e la rigenerazione già a metà gennaio quando cominceranno ad essere recuperati ben 40 computer al giorno da tre ritirati se ne otterrà uno spiega l'amministratore delegato di FormArt Umberto Pallareti l'intero progetto avrà come obiettivi ovviamente quello di ridurre l'inquinamento e l'accumulo di rifiuti e poi nello stesso tempo ridurre quel 50% di cosiddetti analfabeti informatici presenti in Italia e in Emilia-Romagna. E siamo adesso alla pagina dello spettacolo e come tutti i mercoledì arriva Palcoscenico Inn alle 23 circa sul Canale 10 da domani a mercoledì prossimo tanti gli appuntamenti da Oscar Wilde al consorziale di Budrio al malato immaginario di Moliere Aldeon poi Luigi De Filippo Alduse porta in scena a che servono questi quattrini mentre Vito con il suo medico dei Pazzi sarà all'Arena del Sole e non mancano le storie di Natale al Testoni Ragazzi per i più piccoli e i concerti tra cui quello di Luca Carboni all'Europa Auditorium questi sono solo alcuni degli spettacoli che troverete questa sera con Alessia Salvatore in Palcoscenico Inn in onda alle 23 circa come sempre sul Canale 10 adesso un'altra pausa pubblicitaria tra poco I nuovi studio con RTG non ci sono notizie dell'ultima ora allora in conclusione rivediamo i titoli del nostro telegiornale aveva compiuto 18 anni da poche settimane la vittima dell'incidente avvenuto all'alba a Idice di San Lazzaro Piergirolamo Pardo stava andando a lavorare in motorino lo scontro frontale con una macchina lo ha ucciso sul colpo indaga la procura sul decesso di un settantenne morto all'ospedale di Bentivoglio dove era arrivato con alcuni dolori all'addome è la sesta morte sospetta in pochi mesi nella stessa struttura sanitaria soldi che passavano per sponsorizzazioni e consulenze ma che sarebbero serviti per corrompere i vertici ATC e quanto emerge dagli avvisi di fine indagine dell'inchiesta sul Civis che la procura di Bologna ha mandato 11 persone tra cui l'ex sindaco Giorgio Guazzalocca cucine in pessime condizioni igieniche la sala da ballo completamente abusiva e quanto hanno trovato i carabinieri in un club privato allestito in un casolare nelle campagne di Granarolo per il gestore Maxi Multa e doppia denuncia accordo raggiunto per salvare la Verlicchi di Zola Predosa l'intesa firmata in provincia prevede il mantenimento dell'attività produttiva e la salvaguardia di 90 posti di lavoro futuro incerto però per altri 70 dipendenti rimasti esclusi con questo è davvero tutto il nostro telegiornale si chiude qui grazie per averci seguito vi auguro una buona serata grazie per averci seguito